la finale di amici è stata vinta da mattia secondo ballerino di latino nella storia del programma ad aggiudicarsi la coppa l'ultima sfida ha visto scontrarsi mattia e angelina mentre isobel ha vinto il premio team e vax il premio reo ma sul web esplode la polemica subito dopo la proclamazione mattia come sappiamo era stato costretto ad abbandonare amici lo scorso anno a causa di un infortunio ma gli è stato concesso il banco anche quest'anno in questo modo secondo alcuni mattia avrebbe avuto tempo e modo di creare una fandom più estesa che gli ha permesso di essere il favorito al televoto secondo il pubblico di amici mattia non avrebbe meritato la vittoria tanto quanto isobel la stessa angelina che andata in ballottaggio con mattia sembrava essere la favorita ma il ballerino potrebbe aver vinto anche grazie al nuovo meccanismo di voto difatti quest'anno si introdotto un nuovo metodo che prevede di dare al pubblico il 100 per cento del potere decisionale è così che mattia ha vinto con il 51 per cento dei voti mentre la giuria non ha partecipato alla valutazione finale anche raimondo todaro ha preso parte alla polemica pubblicando un post sibillino pochi minuti prima della proclamazione del vincitore difatti il maestro di ballo ha scritto mormora la gente mormora parole riferite probabilmente alla celentano che ha più volte criticato il suo allievo e tu cosa ne pensi mi piace